Salve a tutti, sono Luigi Di Non Solo 3, in diretta da casa mia. Ora, parto con dirvi che categoricamente questa recensione sarà praticamente no spoiler, perché praticamente è un film che andrebbe visto senza che io vi spoilerei nulla, perché sennò perderete naturalmente il gusto di quel che è appunto un giallo deduttivo, nonché appunto questo cena con delitto, appunto film di Rian Johnson del 2000 e 19. Questo è il biglietto che mi hanno strappato anche malamente, ma vabbè. Comunque, Rian Johnson ha diretto questo giallo deduttivo che io aspettavo veramente con tanta trepidazione. Io adoro un sacco i gialli, soprattutto i gialli thriller, che diciamo nella mia carriera diciamo di YouTube, ma anche diciamo personale, nella mia vita privata, ho visto parecchi film gialli, nonché, sì, insomma, parecchi telefilm, tra cui vorrei citare il Detective Monk, naturalmente l'immancabile signore in giallo, ma che comunque sono dei sottoprodotti televisivi che si risolvono abbastanza facilmente senza andare nel dettaglio, perché comunque un film, un conto, una serie tv è un altro conto. Ma qui ci troviamo dinanzi proprio a un film, quindi a un film che dura tra l'altro anche due ore e un quarto, quindi mica pizza e fichi, come si suol dire. Comunque il regista, Rian Johnson, dopo l'ultimo film che ha fatto, nonché gli ultimi Jedi, che tra l'altro non so perché viene, insomma, ucciso da tutti, perché ha fatto gli ultimi Jedi che secondo, diciamo, metà del pubblico dei fan di Star Wars lo considera uno dei peggiori capitoli della serie, della nuova trilogia, ma io sinceramente lo trovo anche uno dei migliori, forse anche leggermente superiore al risveglio della forza, ma chissà comunque, dicevo appunto qui Rian Johnson ci dirige un vero e proprio giallo, perché è da un bel po' di tempo, non che credo due anni, che non fanno proprio un vero giallo, perché comunque andai a vedere l'anno, due anni fa appunto, sì, appunto, l'Assassinio sull'Oriente Express, questo è il romanzo da cui è tratto di Agatha Christie, l'Assassinio sull'Oriente Express di Kenneth Branagh, che non è altro che la trasposizione del romanzo di Agatha Christie, però in salsa Kenneth Branagh, anche se comunque ne hanno fatte parecchie trasposizioni dei romanzi di Agatha Christie. Tra i miei preferiti appunto c'è Assassinio sull'Oriente Express, naturalmente, Assassinio sul Nilo, e naturalmente Dieci piccoli indiani, tra cui ho visto parecchie trasposizioni, credo di averle viste quasi tutte. Comunque, arrivando proprio al succo del discorso, non voglio dilungarmi molto, perché alla fine non posso spoilerarvi nulla, per colpa del fatto che è un film giallo, quindi dovrete capire voi chi è l'Assassino e tutto il resto, dovete capire voi tutti gli indizi. Io ho fatto questo giochetto in sala, diciamo tra me stesso, più che altro, e stavo cercando di indagare io stesso, diciamo, durante la visione del film, chi fosse il vero assassino di quello che appunto è stato ucciso nel film. Nonché, vabbè, si viene a scoprire già dal trailer, non è uno spoiler questo, ma si scopre già dal trailer, che il personaggio di Christopher Plummer, nonché questo patriarca, questo nonno molto amato, diciamo, dai suoi parenti, viene a morire in un modo abbastanza insolito, e quindi si manda questo ispettore, che non è altro che interpretato dal mitico Daniel Craig, che tra l'altro l'abbiamo visto proprio l'altro giorno con il trailer che è uscito, proprio in anteprima, se non sbaglio, sì, proprio due giorni fa, del trailer del nuovo film di Bond, No Time To Die, che devo dire la verità, tanta roba quel trailer, volevo farvi una reaction o comunque darvi un'opinione, ma non ho avuto tempo per colpa del lavoro che sto facendo. Comunque, dicevo, qui troviamo Daniel Craig che fa l'ispettore di turno, che deve cercare assolutamente di risolvere il caso, questo caso qui, uno dei suoi tanti casi comunque, non è uno dei suoi ultimi, se no sarebbe stato un cliché, però insomma, diciamocelo, io questo genere qui lo amo alla follia, lo dico sempre, però dico di parecchie cose che io amo alla follia, però secondo me il giallo, o comunque i thriller, io li amo veramente tantissimo. Il film è stato girato con un budget di 40 milioni di dollari, che comunque, devo dire la verità, è una somma veramente spropositata per un giallo come questo, però devo ammettere che, se non erro, la sceneggiatura l'ha scritta anche Johnson stesso, insieme a qualche altro sceneggiatura, adesso non ricordo che n'estatezza, comunque, devo dire la verità, è scritto veramente bene, ci sono alcuni dettagli che io, man mano nel film, ho detto, ma perché non li riprendono? E poi alla fine, hop, c'è il ribaltone, e voi non ve ne accorgete che quel dettaglio che in un primo momento lo spettatore pensava fosse andato perduto, durante la spiegazione di tutto il resto, alla fine esce fuori. Naturalmente io non vedevo l'ora di trovarmi dinanzi proprio a un vero giallo, proprio quelli proprio puri, perché questo qua è proprio un giallo puro, uno di quei gialli deduttivi che, in un primo momento, mentre io stavo pensando tra me e me durante la visione, beh sì, è andata così, insomma, ha risolto il caso, invece no, un corno, perché il caso non è stato risolto. E quindi c'è una specie di ribaltone finale, una specie di plot twist finale, che alla fine, insomma, rimarrete un po' di stucco, perché alla fine non ci avevate neanche minimamente pensato a questa altra strada che si poteva prendere durante l'indagine. E infine, ecco, sono rimasto veramente stupito da come ci ha fatto, da cosa ci ha fatto vedere Ryan Johnson con questo giallo. Allora, devo ammettere che Ryan Johnson, il livello registrico, diciamo, il suo metodo di regia, io lo adoro, insomma, perché praticamente ha un modo di fare regia a Johnson abbastanza particolare. E soprattutto lui utilizza questi movimenti di macchina molto articolati, con angolazioni e inclinazioni di camera sempre ben coordinate, sempre peculiari, sempre ricercate, veramente non so come faccia questo grande regista, che secondo me man mano che gli fanno fare film si sbizzarrisce, perché qui veramente ha fatto un lavoro registrico coi fiocchi, sembra quel misto tra J.J. Abrams, Steven Spielberg e anche un pochino di, se vogliamo, sì, insomma, sì, perché comunque ci sono quei Lance Flair abbastanza peculiari di J.J. Abrams qui in questo caso, e un pochino ricorda la regia di Nolan, perché ogni tanto ci sono queste inquadrature, soprattutto quando c'è una scena in macchina, c'è un'inquadratura proprio piazzata, fissa, sulla macchina, e la macchina che si muove con lo sfondo dietro che si muove, cioè è qualcosa di meraviglioso. Questo modo di fare regia veramente lo... veramente ne vado pazzo io, per la regia di Johnson. Quindi promossa a pieni voti la regia di Johnson, non c'è molto a dire, perché effettivamente la regia è quella. Ci sono i Lance Flair classici, che tra l'altro abbiamo già notato in Gli Ultimi Jedi, che credo siano stati un po' influenzanti da parte di J.J. Abrams, probabilmente perché forse era alla sceneggiatura e nel caso degli Ultimi Jedi qui no. Comunque, devo dire la verità, è stato meraviglioso il modo in cui ha fatto regia in quel caso. Mentre per quanto riguarda la fotografia del film, l'ho trovata molto cuba, molto dark, molto spenta, ci sono alcuni colori molto desaturati, c'è questo tipo di fotografia, soprattutto questi giochi di luce e di ombre, che mi ha ricordato molto quasi quei gialli, appunto, quelli su Sherlock Holmes, che tra l'altro io non ho mai letto i romanzi di Sherlock Holmes, però alcuni film li ho visti, tra cui anche quelli con Robert Downey Jr., però insomma, anche quello con Peter Cushing, La Furia di Baskerville, quello è uno dei miei preferiti, d'altronde. Ho anche Vestito per Uccidere, Dressed to Kill, quello con Basil Redbourne. Ho anche lo stesso film della Disney, Basil è l'investigatore, perché comunque, pur essendo un film della Disney, io l'ho apprestato tantissimo per come si svolgeva quel giallo, abbastanza, non era molto deduttivo, però insomma, potete ben capire. Però dicevo, veramente qui la fotografia mi ha ricordato molto quel tipo di film, anni 40, anni 50, con queste luci, queste ombre proprio sparate sulle facce degli attori, soprattutto su Daniel Craig, che spesso e volentieri viene sempre inquadrato a metà faccia, è veramente incredibile. Cioè, soprattutto c'è una scena dove c'è Daniel Craig al buio, dove si vede che sta fumando un sigaro, ed è veramente inquietante come cosa, come fotografia proprio, che sembra quasi anni 40, in un certo senso. Questo certo leggero pizzico di noir l'ho apprezzato un sacco, perché c'è un pizzico di noir nel film. E naturalmente non manca il thriller, e quel sano tocco di commedia nera, quel tocco allo humor nero che mancava, forse probabilmente. Forse anche perché c'era Frank Oz tra i protagonisti del film, che fa comunque una piccolissima parte. Però comunque si vede che c'è quel tipo di humor nero all'inglese, diciamo, che ne vanno matti appunto gli inglesi di questo humor nero. E per quanto riguarda invece la sceneggiatura, non posso dirvi nient'altro che è un giallo deduttivo, quindi insomma bisogna un po' dedurre da cosa, come sia fatto. Anche se qui, devo dire la verità, pur essendo un giallo deduttivo, più o meno noi sappiamo già tutto. Ma non tutto come dovremmo, perché verremmo a scoprire altre cose. Cioè nel senso, qui Ryan Johnson ha un po', nonostante ci sia lui alla sceneggiatura, dicevo, abbia un po' ribaltato il concetto di giallo deduttivo, perché alla fine, in un certo senso, ci viene praticamente quasi detto tutto dopo metà film, più o meno. Quindi sta a noi più o meno a capire cosa c'è che non va, e che cosa manca di questi pezzi del puzzle. Che pezzi di puzzle mancano, praticamente. Quindi l'idea che ci facciamo durante la visione del film, che ci diciamo noi spettatori, ah, ok, hanno risolto il caso, invece no. Perché ci sono alcuni tasselli mancanti, alcuni piccoli dettagli di cui non si fa tanto caso, ma che poi alla fine, di quando, diciamo, Daniel Craig fa il monologo finale, dove svela tutto l'arcano, che spuntano fuori questi piccoli dettagli, che io pensavo fossero dimenticati, invece no, sono comparsi proprio sul più bello, quando nemmeno me l'aspettavo, perché ho detto, vabbè, sarà un buco di sceneggiatura, si saranno dimenticati di questi piccoli dettagli, invece no, si sono ricordati tutto, e quello è il bello, di chi scrive i stessi film e li dirige. E qui si vede che, se non erro, ripeto, Johnson abbia scritto in parte la sceneggiatura, quindi si vede quando un progetto lo scrivi tu stesso, sai benissimo dove vuoi andare a parare, e non ti dimentichi di nessun dettaglio, e si vede benissimo. Per quanto riguarda invece il punto di vista di come viene svolta la storia, ci sono parecchi flashback, o comunque scene riviste dal punto di vista di qualche altro personaggio, diciamo di tutti i personaggi vediamo alcune scene viste da un punto di vista differente, da come l'avrebbero vista loro, come l'hanno vista loro questa scena qui, o come l'hanno sentita, perché ci sono parecchie, appunto, il classico, infatti c'è proprio questo piccolo dettaglio dove c'è il personaggio di Danny Craig, che è l'ispettore che interroga uno per uno i, diciamo, i probabili indiziati, nonché tutti i parenti della famiglia, e li fa, li fa accomodare su questa sedia, e lui li interroga da dietro un'altra sedia, quindi proprio il tipico, tipico interrogatorio che si vede soprattutto nel, appunto, nell'omicidio sull'Oriente Express, appunto, assassinio sull'Oriente Express, quindi, insomma, è proprio da lì che credo si sia ispirato tantissimo, naturalmente, Johnson, nonché da moltissimi altri film, come anche, ripeto, Assassinio sul Nilo, Delitto sotto il sole, Rebus per un assassino, che tra l'altro lo ha prestato tantissimo, c'è John Huston e un Jeff Bridges incredibili, c'è anche un Thomas Millian abbastanza riconoscibile. Per quanto riguarda il resto, insomma, diciamocelo, si sono ispirati a parecchi film, tra cui anche Signori delitto e servito, per quanto riguarda il titolo italiano, o comunque Invito a cena con delitto, che quelli comunque sono la parodia di Dieci piccoli indiani, o comunque altri film sul genere giallo, però, diciamocelo, io apprezzo anche quelli, perché anche le parodie, diciamo, in un certo senso, rientrano nel giallo, nonostante non siano proprio parodistici, però, diciamo, lì in quel caso, Invito a cena con delitto, c'è Peter Sellers, che fa il cinese, insomma, è abbastanza particolare, c'è anche Peter Folk, Maggie Smith, insomma, ci sono veramente tantissimi altri attori, diciamo, cast importanti, come anche in Signori delitto e servito, quello veramente, c'è Tim Curry, che fa una parte bellissima. Per non parlare appunto di Trappola Mortale, con Christopher Reeve e Michael Caine, che io veramente amo alla follia quel film lì, veramente, spero non facciano mai un remake di quel film lì, perché è bellissimo. Per quanto riguarda poi il resto, naturalmente, per non parlare anche, forse credo, un pizzichino di Ghost Fort Park, c'è, in un certo senso anche, però, diciamo che ho trovato veramente peculiare, questo aspetto della sceneggiatura, che è, questa ispirazione da altri film gialli, o comunque romanzi gialli, come quelli di Agatha Christie, per esempio. E per quanto riguarda invece il resto, diciamo che il ritmo in montaggio è abbastanza rapido, perché le due ore e un quarto non si sentono per niente, cioè, il film scorre liscio, che è una meraviglia, naturalmente, perché, alla fine, io i gialli deduttivi li trovo così, perché, anzi, più che altro i gialli in generale, quando si parla di un omicidio, dove c'è l'indagine, tutto il reso interrogatorio, gli indiziati, bla bla bla, tutti gli indizi, bla bla bla, sì, ecco, io questi film qua, o comunque serie, o comunque romanzi, io li divoro, li riesco a vedere proprio con una velocità rapida, perché mi catturano un sacco, è quello che, è quello il bello di questi film qua, o comunque dei romanzi, o delle serie che seguo, che mi spingono proprio alla visione, e rimango totalmente coinvolto, è quello il bello di questo genere qui, sia letterario che cinematografico, e sia televisivo. Purtroppo ci sono alcuni momenti di leggera lentezza nel film, però non sono così tanto invasivi, nel senso, non sono così tanto lenti da farti annoiare, assolutamente no, cioè, più che altro ho trovato più lenti altri film, che duravano un'ora e mezza, che un film come questo, che dura due ore e un quarto, vedete un po' voi, quindi insomma, diciamo che è abbastanza rapido nel suo insieme, sia come ritmo, sia come montaggio, non c'è questo montaggio serratissimo, però, diciamo, verso più o meno dalla seconda parte in poi del film, è abbastanza rapido, molto più rapido di quanto non lo sia già dall'inizio del film, quindi l'ho trovato meraviglioso, il ritmo di questo film è coinvolgente, riesce a catturarmi dall'inizio alla fine, è riuscito a catturarmi dall'inizio alla fine, mi è riuscito a tenere incollato davanti allo schermo, senza neanche distogliere lo sguardo per un momento, perché è quello che deve fare un film come questo, deve intrattenere lo spettatore con questa indagine, e cercare di scoprire la verità su quello che è successo. su quello che sta succedendo e su quello che è successo. Quindi, che altro posso dirvi se non che, perché alla fine, diciamocelo, gli attori sono stati meravigliosi, alcuni sono stati un po' sfruttati male, non c'è questa grandissima caratterizzazione dei personaggi, cioè sì, c'è, però non tanto come avrei pensato inizialmente, l'ho trovata molto macchinosa come scelta, però alla fine funziona lo stesso. Comunque diciamo che, per quanto riguarda la recitazione, l'ho trovata abbastanza buona, per quanto riguarda generalmente, generalizzando tutto il comparto attoriale degli attori. Quindi, in conclusione, che altro posso dirvi su questo cena con delitto? Knives Out, perché alla fine il titolo era Knives Out, cioè fuori coltelli, una roba del genere, non credo sia proprio così la traduzione del titolo in italiano, però coltelli fuori dovrebbe essere, fuori coltelli, insomma. È abbastanza peculiare il fatto che ci sia questa specie di cosa rotonda, dove ci sono tutti i coltelli che puntano alla persona che sta seduta. È veramente meraviglioso questo titolo in originale. In italiano abbiamo deciso di chiamarlo Cena con delitto, probabilmente perché volevamo citare il fatto che ci fosse Invito a cena con delitto, Signori delitto e servito, insomma, un po' per richiamare i titoli di una volta, quelli appunto del passato, che hanno fatto con questo genere di firma. Quindi, in conclusione, che altro posso dirvi su Cena con delitto Knives Out? Se non che fiondatevi immediatamente in sala a visionarlo, perché merita davvero tantissimo questo film qui, perché è una rinascita, una vera ricostruzione di come si dovrebbe fare un giallo, come si deve, una decostruzione del giallo, però fatta in maniera veramente incredibile da Rian Johnson. Quindi il mio voto finale non è altro che un bel 8, perché se lo merita veramente tanto questo 8, perché io sinceramente mi aspettavo leggermente di più, ma secondo me va bene benissimo così com'è. Credo che abbiano tagliato qualche scena, sennò poi il film sarebbe diventato di due ore e mezza o tre ore, quindi insomma, potete ben immaginare, però il film è piaciuto ugualmente. Quindi ragazzi, non so più che altro dirvi, e ci rivediamo in un'altra prossima recensione. Ciao a tutti!